Un'altra uscita in Casavellino dopo quella di Giuseppe Guadagni alla Re Canatese e Daniele Franco alla Turris, c'è un nuovo addio. Tommaso Ceccarelli si accaserà al Picerno, l'esterno ex Lazio di Vestabia, sarà un giocatore dei Lucani. Il calciatore si trasferirà in prestito al club di Longo dopo aver collezionato nuove partite e messo al segno un gol con i Lupi. I buoni rapporti tra la società di padron Curcio, il direttore sportivo della Leonessa, Vincenzo Greco e quello bianco-verde Enzo De Vito potrebbero spianare la strada ad un'altra operazione. Quella relativa a Jacopo Murano, l'attaccante di Vietri di Potenza, piace molto al club che sarebbe pronto a riportarlo in Basilicata. Si accende quindi ufficialmente il derby di mercato con il Potenza. Infatti anche i rosso-blu vogliono fortemente il samurai, uomo simbolo della squadra in due epoche diverse. Per quanto riguarda Claudio Mikoski al Taranto, l'intesa tra le parti c'è, ma a quanto pare l'affare slitterà in quanto la gente non è ancora rientrato dalla Romania. Così come avverrà solamente all'inizio della prossima settimana l'addio sempre in prestito di Marco Garetto, Gelbison, Andrea, Renate e Arzignano su di lui. Andrea Sbraga, oltre a Trento e Novara, ha anche avuto un timido interessamento da parte della Provercelli. Gennaro Scognamiglio piace sempre al Giuliano. Sul fronte ai possibili arrivi, Andrea Cittadino è sempre sul tacquino di Enzo De Vito. Il play del Trento piace e su di lui nelle ultime ore ci sarebbe stato un interessamento anche del Potenza. Da Reggio Emilia è rimbalzata una voce. A quanto pare Fausto Rossi, 32 anni, sarebbe stato proposto dal suo entourage al sodalizio Biancoveld. 105 gettoni per lui con la squadra di Aimo Diana, Vicenza, Brescia, Trapani, Provercelli e alcune esperienze all'estero per lui. Per quanto riguarda il fronte offensivo, sono sempre caldi i nomi di Mamadutto, Uncarà del Cittadella, giocatore in uscita dai Veneti che ha fatto molto bene con la vita arbese. E Michele Marconi del Sud Tirol, ex Alessandria, senza dimenticare Luca Vido del Palermo. A questo punto, viste le tempistiche, la punta non aggiungerà l'ombra del Partenio prima della prossima settimana.